Nome di Allah, il misericordioso e il clemente. Il nostro sermone oggi porta il titolo La pericolosità delle calunni e delle falsificazioni della coscienza. Ma prima di tutto lode ad Allah, Signore dei Mondi, che disse nel nobile Corano O credenti, temete Allah e parlate onestamente sì che corregga il vostro comportamento e perdoni i vostri peccati. Chi abudisce ad Allah e al suo inviato otterrà il più grande successo. Rendo testimonianza che non esiste divinità oltre Allah, l'uno senza alcun associato e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concede la tua salvezza e predizione a lui, alla sua famiglia, ai suoi combani e a coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno. Seguitando il merito Il conflitto tra la verità e la menzogna è antichissimo. Esiste sulla terra dal primo momento della creazione dell'essere umano, cioè Adamo, e resterà fino all'ultimo giorno quando Allah erediterà la terra con tutte le sue creature. Tra i mezzi più importanti della gente della misogna nel suo conflitto con la gente della verità, c'è la produzione delle calogne e promuoverle tra la gente. Non c'è dubbio che la parola è una responsabilità sia letta, ascoltata o visibile, e le voci sono delle parole diffuse tra le persone, da una persona che porta dentro di sé un cuore malato o diffuso da un ente, un'organizzazione di forze malvagie che operano in segreto. Tali forze cercano di far diffondere le calogne senza prove per influenzare con modo negativo sulle menti e sulle anime, diffondendo anche delle idee distruttive e credenze corrotte che seminano l'ansia, il sospetto, la debolezza e la sfiducia tra gli individui all'interno della società. E così vediamo la gente di una nazione interrogarsi fra di loro e tradirsi a vicenda. Perciò il profeta, a bacio e pretensione dall'asso di lui, disse è abbastanza falsità per un uomo mettere in relazione tutto ciò che sente. Se parlare di tutto ciò che una persona sente è una forma di menzogna, quindi una persona viene severamente punita nell'aldilà. Quando parla di ciò che non ha visto o sentito, l'Islam ha preso una posizione ferma sulle voci e sui promotori e ha considerato il comportamento in contrasto con la buona morale e inubile valore della legge islamica. Quando ha ordinato ai suoi seguaci di imbedire che la lingua si diffondesse in ciò che sta diffondendo la sedizione e provocare disordini nella società, e ha ordinato loro di essere onesti nelle loro parole e di mantenere le loro lingue, accertando tutto ciò che sentono in modo che non causino discordia, corrompano la società e difamano le persone. De questo l'Altissimo disse, O voi che credete e temete Allah e state con i sinceri. Allah disse anche, Non eseguire ciò di cui non hai conoscenza alcuna, di tutto sarà chiesto conto dell'udito, della vista e del cuore. E il profeta, bacio e pretensione di Allah su di lui in un hadith sharif, cioè detto del profeta, disse, Non ti parlerò della testa della questione dell'islam, del suo pilastro e del suo abice. Lui, Jihad, poi disse, Non ti parlerò delle basi di tutto ciò. Dissi, Sì, si prese la lingua e disse, Trattenete questo, O profeta di Allah, saremo portati a rendere conto di ciò che diciamo. E le disse, Che una madre non ti abbia trovato, O Muad, le persone vengono gettate in faccia all'inferno per qualcosa di diverso dalla raccolta delle loro lingue, diffondere e promuovere voci e calonie e il comportamento degli ibocriti nel raggiungere i propri scopi e obiettivi, minando la sicurezza, prendendo di mira l'unità della patria, indobolendo la crescita della sua economia, minando la sua stabilità e sicurezza, diffondendo lo spirito di frustrazione, disperazione e pessimismo nel cuore dei cittadini in generale e dei giovani in particolare, perché il tremore è destinato a entrare in cattive notizie e sedizioni che potrebbero causare gravi perubamenti nella società. Da questo Allah l'Onipotente disse, Se gli ibocriti, coloro che hanno un morbo nel cuore e coloro che sbargono la sedizione, non smettono, ti faremo scendere in guerra contro di loro e rimarranno per poco nelle tue vicinanze. Le voci sono uno dei mezzi di guerra da cui il profeta, bacio e pretenzione dell'asso di lui, non è fuocito. I politiesti hanno combattuto contro il profeta, bacio e pretenzione dell'asso di lui, diffondendo voci per escreditarlo e distorcere la sua immagine. Di questo disse Allah l'Onipotente e i miscredenti dicono, E' uno stregone, un gran bugiardo. Sostenevano con un modo oppure scioccamente che fosse un poiete e un pazzo, e dicevano dovremmo abbandonare i nostri dei per un poiete posseduto. A volte si diceva che fosse un prete. Dio Onipotente rispose a loro mentendo le loro calogne o voci, dicendo non è la parola di un poeta, credetelo per quanto poco crediate, e neanche la parola di un indovino per quanto poco riflettete. Riflettiate. E' una rivelazione venuta dal Signore dei miei mondi. Un giorno i politiesti diffusero una falsa voce sulla morte del profeta, bacio e pretenzione di Allah e di Lujia, al fine di disperdere i musulmani e indebolire il loro potere. I ranghi dei musulmani furono disturbati e la loro forza psicologica si indebolì. Alcuni fuggerono, altri lanciarono armi, e alcuni restarono fermi con il profeta, bacio e pretenzione di Allah e di Lujia. Nella battaglia di Hamra al-Assad, i politiesti dicevano che Quraysh aveva preparato un grande esercito per attaccare la città e combattere il profeta, bacio e pretenzione di Allah e di Lujia e i suoi compagni, ma i musulmani restarono fermi preservando la loro religione e non si disturbarono dalle voci diffuse. Per quello Allah, l'Ulipotente, elogiò la loro posizione dicendo, dicevano loro, si sono riuniti contro di voi, temetili, ma questo attrebbe la loro fede ed essero, Allah ci basterà e il miglior dei protettori. Nella battaglia di Hunayn, quando si diceva che il profeta bacio e pretenzione di Allah su di Lujia fosse stato ucciso, il profeta si oppose a questa voce dicendo, sono il profeta, non sono boggiardo, sono il figlio di Ibn Abdul Muttalib. Le voci e la promozione di voci pericolose sono nascoste ai saggi, tali voci che incitano lo sbargimento del sangue e ai massacri. Ma rendiamo un importante esempio dalla storia dell'uccisione del califo Osman ibn Affan, che Allah sia contento di Lujia o soddisfatto di Lujia e ci sono le migliori prove e testimonianze di questo. I suoi seguaci furono assediati dai criminali a causa delle voci diffuse del bogiardo Abdullah bin Chiba, l'ebreo, e persino l'embidì di bere acqua che acquistò il bozzo di Romia con i suoi soldi. Narrato da Naila, la moglie di Osman, che Allah si compiaccia di Lujia, disse, il giorno precedente dalla sua uccisione Osman era in giugno e quando venne il momento dell'iftar, cioè rompere il giugno, chiese una tazza d'acqua. Loro rifiutarono, perciò Osman dormì senza bere né mangiare. Quando venne l'alba, chiesi ai vicini una tazza d'acqua e mi dietro cercai di fare Osman bere quella tazza, ma lui mi disse, venne il momento di digiunare un nuovo giorno. Inoltre ho avuto una rivelazione del profeta. L'ho visto mentre mi dava l'acqua e mi faceva bere e mi disse bevi di più, perciò ho bovuto e poi mi disse di nuovo la vostra gente verranno ad ucciderti. Se cerchi di combatterla, vencerai. Se la lasci, sarai con noi, cioè un martire. E così la gente è malvagia uccisa Osman. Oggi ci sono molti fattori che sono cambiati e l'industria malvagia ha preso forma. Mentre il mondo sta assistendo a un rapido e veloce sviluppo dei mezzi di comunicazione e tecnologia, la voce è diventata più diffusa, più veloce, più infeluente e persino un mezzo di guerra. La guerra non è più monodimensionale, dimensionale è puramente militare o puramente sicurezza, nemmeno puramente intelligenza nel tradizionale concetto dei vecchi sistemi di intelligence. In termini di metodologia di utilizzo dell'arma, delle voci e della falsificazione della coscienza è diventata una questione di studio e addestramento da parte di alcuni partiti sospetti e imbligando battaglioni elettronici con l'uso dei massimi mezzi di assedio e pressione politica, economica e psicologica e tentativi disperati di provocare persone e contorsendole sui loro sovrani e distorcere i simboli e guadagni nazionali. Lo cittismo di tutti i risultati la sottovalutazione e allianza di gruppi forse terroristici e tentativi di infiltrarsi nelle situazioni provocano qualsiasi conflitto che porta a divisioni mediante un meccanismo senza precedenti con un suo deliberato dell'informazione e reclutamento di alcuni moderni mezzi di comunicazione ma molti di loro e la necessità di giocare l'immediato e gli interessi che alcune persone non sono suscitibili di pazienza e cercare di rompere la volontà del popolo e lavorare per spezzare il prestigio dei sovrani mettere in discussione scienziate intellettuali nazionali e sostenere loro avversari e inviare messaggi minacciosi allineati a volte e altre schierati aderenti ai loro principi fedeli alle loro terre evidenziando il destino di coloro che non salirono e si onerano al piano bicamminoso sollevando lo standard del barto e inginocchiandosi dietro non ci dubbio che la questione della resistenza contro tutte queste ondate richiede una solida convinzione e fede nazionale e la fiducia illimitata in Allah poiché molte persone potrebbero sottovalutare la condivisione di alcune notizie statistiche o storie senza verificarle o verificare la loro fonte quindi sono quelli che hanno partecipato alla diffusione della sedizione e dell'ascensione una parola falsa che una persona dice scrive o condivide potrebbe essere diffusa e diventerebbe la causa di una punizione nel giorno della risurrezione di questo disse il profeta bacio e pretensione di Allah su di lui un servitore di Allah può pronunciare una parola che piaccia ad Allah senza dargli molta importanza e per questo Allah lo porterà e gradi di ricompensa un servitore di Allah può pronunciare una parola con un modo incauto oppure incautamente che dispiace ad Allah senza pensare alla sua gravità e per questo verrà agitato nell'inferno fuoco da questo imploro il perdone di Allah sia per me e per voi sia l'ode ad Allah signore dell'universo che la salvezza e le pretensioni di Allah siano conferite all'onesto profeta alla sua famiglia ai suoi compagni alla sua giustizia fino all'ultimo giorno quindi i miei fratelli nell'Islam l'Islam ha sviluppato un approccio saggio per proteggere la società dalle voci e consiste nel seguente la necessità di verificare le notizie e di fare attenzione prima della pubblicazione nella comunità ed è questo di se l'onipotente Allah o credenti se un malvagio vi reca una notizia verificatela affinché non portiate per disinformazione pregiudizio a qualcuno e abbiate voi a mentirvi di quel che avrete fatto e il profeta bacia pregiudizio dall'asso di lui e disse compierele a fare con calma e un ordine divino e farli in fretta e un ordine del diavolo anche il profeta disse potete fare tutto con calma tranne le opere pie dell'aldilà non ripetere la voce in alcun modo leggibile udibile o visibile perché nel suo canto recitante alla promozione e alla diffusione le voci diventano più diffuse se ci sono lingue di frequenze e le orecchie li ascoltano e gli animi accettano e credono Allah disse quando con le vostre lingue riportaste e con le vostre bocche queste cose di cui non avevate conoscenza alcuna pensavate che non fosse importante mentre era enorme davanti ad Allah e il messaggero di Allah disse chiunque crede in Allah e nell'ultimo giorno dovrebbe parlare di ciò che è buono o star zitto e chiunque crede in Allah e nell'ultimo giorno non dovrebbe ferire o insultare il suo vicino e chiunque crede in Allah e nell'ultimo giorno dovrebbe intrattenere generosamente il suo ospite la necessità di coesione tra le persone dello stesso paese è fornire buon pensiero quando si sentono le voci e di questo Allah chiese disse perché quando si sentono parlare i credenti e le credenti non pensarono al bene e loro stessi e non dissero questa è una valese calunia e a un musulmano viene comandato di pensare bene e di portare il bene degli altri perché la diffidenza è una malattia mortale che porta alla distruzione della vita e alla diffusione della rivalità tra le persone e il profeta bacio e benedizione dall'asso di lui ne ha avvertito dicendo attenzione ai sospetti il sospetto è il discorso più falso non sbiare e non orgliare non competere l'uno con l'altro e non invidiarci a vicenda e non si odiano e non si evitano l'un l'altro siate servite servitori di Allah e fratelli dipendere sull'esperti e competenti nella dichiarazione degli fatti e di non affrettarsi a giudicare le cose disse l'unipotente nella descrizione degli ipocriti se giunge loro una notizia motivo di sicurezza o di allarme la divulgano se riferissero al messaggero o a coloro che hanno l'autorità certamente la comprenderebbero coloro che hanno la capacità di farlo se non fosse stato per la grazia di Allah che è su di voi e per la sua misericordia certamente avreste seguito satana eccetto una piccola parte di voi cioè se nascondevano nella sicurezza e nella stabilità della comunità cittadina se sentono notizia sulla sicurezza o la baura dei musulmani la trasmettono o la mostrano con l'intenzione di diffondere banico ansia e confusione lascia che ogni credente geloso della sua religione fedele alla sua patria si alzi per contrastare quelle voci e negarle disse il profeta bacio prendizione dalla sud lui se un musulmano difende l'onore di suo fratello in sua assenza Allah proteggerà la sua faccia dal fuoco dell'inferno nel giorno della risoluzione dobbiamo sapere che la parola è responsabilità che ci verrà chiesto davanti ad Allah l'onipotente nel giorno del giudizio rendiamoci tutto conto che i nostri nemici hanno preso le guerre della quarta e quinta generazione è la guerra di voci e distorsioni di risultati e simboli nazionali tentativi di minare tutto ciò che è il modo nazionale di fallire rovesciare o frammentare i nostri paesi per raggiungere loro scopi e obiettivi dobbiamo renderci conto che una feroce guerra si sta tessendo per noi e le voci la alimentano dobbiamo controllare e dimostrare che non cadiamo nelle macchinazioni dei nostri nemici dobbiamo fidarci di noi stessi della nostra leadership del nostro esercito e della nostra polizia e non dare il nostro cuore ai nemici della patria e a coloro che lavorano per minacciarci o il morale o pensare alla nostra frustrazione e disperazione tra noi ciò richiede che immunizziamo i nostri giovani e la nostra società con consapevolezza della realtà conosciamo le entità delle sfide che affrontiamo e proviamo a contribuire a risolverle o Allah guida verso la retta via salva l'Egitto secondo ci che ami e protegge il popolo egiziano da animale grazie dell'ascolto grazie Grazie a tutti.